Ciao creativi, qui è Masci. Ecco come ho utilizzato questa stampa artigianale alla Filcrystal per creare quattro diversi gioielli. Mi sono divertita inglobando la foglia d'oro. Psss, ehi, mescola molto per ottenerla fine fine. E ho inglobato anche dei fiori disponibili nei set di Reschimica. Dopo 12 ore, guardate che belle composizioni, neanche una bolla e stampo super lucido. Li ho trasformati in una collana elegante, un paio di orecchini colpite della regina Anna, un'altra collana utilizzando l'open basil ed infine piccolo trucchetto. Fisso il perno con la resina UV e voilà, l'orecchino montato. Ti ho ispirato, ora tocca a te!